salve ecco il video per installare i profile che vi ho inviato oggi si prende la cartella dopo averla unzippata e si chiama grafici mensile wiki 2003 colorati si apre la metatrader si va in file apri scheda data profile e si va a copiare la carterra qui quindi la cartella va copiata la cartella totale si fa copia e si si mette in questa cartella dopo di che chiudiamo la metatrader la riapriamo si aspetta che la metatrader si riapra ecco si va dopo che è stata aperta si va in file profile ecco qua e si clicca qui grafici mensili wiki 2003 colorati si clicca qua e si aprono tutti i grafici